L'Italia vende oltre 7 miliardi di obbligazioni e i rendimenti calano, ma l'asta odierna non raggiunge l'obiettivo massimo. Gli investitori sottolineano i timori sulla capacità di finanziare 1.900 miliardi di euro di debito. La fiducia del settore manifatturiero italiano cala al minimo di due anni a dicembre, con l'economia che potrebbe essere entrata nella quarta recessione negli ultimi dieci anni. La Banca Centrale Europea ha più spazio per tagliare i tassi di interesse fino al minimo storico, mentre la crisi del debito attenua le pressioni inflazionistiche. Collegamento internet da Seattle, Washington. C'è Filippo Corsano, economista di Nostem. Ciao Filippo e bentornato. Parliamo ancora di aste di BTP. In quella odierna il Tesoro ha venduto 2 miliardi e 500 milioni di euro di BTP con scadenza 2014, meno dei 3 miliardi previsti a un rendimento comunque del 5,62%, in calo dal 7,89% dell'Astra il 29 novembre. Il Tesoro ha poi prezzato 2 miliardi e 500 milioni di euro del suo BTP 5% 2022, a un rendimento del 6,98%, in calo dal 7,56% del 29 novembre. E infine circa 2 miliardi di euro di debito a scadenza al 2021 e un buono a tasso variabile con scadenza al 2018. In totale 7 miliardi e 20 milioni di euro, meno del massimo previsto di 8 miliardi e 500 milioni. Non un cattivo risultato, considerando appunto il notevole calo del rendimento, particolarmente sul triennale, ma rimangono dubbi appunto sulla solvibilità e la pressione del mercato non diminuisce. Sì, io penso che questo è un risultato tattico del Tesoro che cerca ovviamente di minimizzare usando la curva dei rendimenti a suo favore. Chiaramente la curva verso le scadenze a breve e a tassi ragionevoli, anche se il 3,25% per 6 mesi non è bassissimo. Comunque chiaramente non si può, tatticamente è la scelta giusta, però differisce il problema a 6 mesi. Il vero problema sono i primi 6 mesi, il primo trimestre del 2012, quando ci saranno delle scadenze pesanti del debito a lungo. Forse la cosa da rendersi conto è che i tassi a breve sono ancorati da questa manovra della Banca Centrale Europea, però i tassi a lungo dipendono dall'appetito degli investitori istituzionali esteri, principalmente esteri, perché non c'è grande domanda all'interno delle banche europee per il decennale che ha causato tanti problemi nel loro capitale bancario. Il decennale per l'appunto il rendimento sul rimane basso dopo l'asta al 7,05% in ogni caso che sia nel primo pomeriggio italiano. Alla conferenza di fine anno il Presidente del Consiglio Mario Monti ha detto che il costo dei finanziamenti italiano, oltre il triplo di quello della Germania sul decennale, non è giustificato. Non lo è? Non è giustificato, non è giustificato, allora non capisco perché la Banca Centrale Europea non acquisti questi titoli se è talmente a buon mercato. La Banca Centrale Europea non lo vuole fare. Chi rimane sono gli investitori istituzionali esteri che vengono accusati di essere speculatori, di avere appetito da voltoi sulla carcassa italiana, però qualcuno li deve comprare, a che prezzo li comprano con la strategia attuale è quello che è come dire c'è molto vento oggi, che brutta cosa che ci sia molto vento oggi. Arriviamo anche alla Banca Centrale Europea, al prestito passando dall'asta di ieri, il tesoro gli era venduto 9 miliardi di euro al 3,251%, un rendimento dimezzato in confronto all'asta precedente del 25 novembre. Questo accade dopo che la Banca Centrale Europea ha prestato 489 miliardi alle banche europee nel suo programma di finanziamento illimitato per tre anni. Le banche italiane, si dice, questo è un si dice, ma appunto pare che arrivano da persone a conoscenza della situazione, abbiano preso 116 miliardi di euro dall'offerta del 21 dicembre della BCE. Dunque Filippo, possiamo dedurre che il mercato presuppone, visto che appunto il rendimento è stato dimezzato, presuppone che le banche impiegheranno i soldi presi dalla Banca Centrale Europea per comprare debito sovrano. Questa eventualità, tu credi sia un bene o un male? Perché il caso? Prima di tutto penso che sia un'eventualità assolutamente fittizia, perché abbiamo visto che le banche hanno depositato tutta quella cifra, meno 70 miliardi, 77 miliardi, con la Banca Centrale Europea, perché non hanno fiducia nel sistema bancario europeo. Adesso tu mi puoi dire, ok, di quel 77, 9 sono andati a finire in rendimenti a 3,25%, io ho un costo del finanziamento dell'1%, sì, a sei mesi. Però penso che strategicamente la manovra sia stata una manovra d'emergenza, però come al solito questa manovra d'emergenza non ha dato dei frutti che abbiano una sostenibilità a lungo termine, perché se no perché le banche avrebbero ridepositato sulla Banca Centrale Europea la stragrande maggioranza di questa liquidità? Perché hanno una gran paura? Perché hanno una gran paura, allora credere che si possa finanziare il debito a 10 e più anni usando le banche è un controsenso, perché le banche faranno solo investimenti a brevissimo, usando questi fondi per ripianare alcune delle loro esposizioni sui titoli sovrani. Manca una strategia a lungo termine, a medio termine, questo è quello che veramente è lampata. Come mai l'ha fatto la Banca Centrale Europea per inserire generalmente liquidità nel sistema come si dice in questi casi? Che cosa vuol dire in effetti? O per aiutare il mercato del debito sovrano attraverso le banche o per aiutare i bilanci delle banche stesse o effettivamente perché le banche passino questo contante alle famiglie e alle aziende? No, è chiaro che il motivo è questo, che l'anno prossimo le banche in Europa, a detta di un articolo che fu pubblicato poco fa dal Financial Times, hanno un requisito di finanziamento di oltre 485 miliardi, questo rifinanziamento, perché nella fine del 2011 lo sportello del finanziamento del debito a scadenza normale delle banche praticamente si è chiuso, non c'è stato quasi nulla, da luglio a oggi penso che siano stati una decina di miliardi del rifinanziamento delle banche, perciò il motivo è questo, che la Banca Centrale Europea ha dato un avvallo a questo rifinanziamento che viene a scadenza nel 2012, perciò abbiamo due fuochi accesi, il primo è ovviamente quello della solvibilità degli stati, il secondo è un problema più nascosto, però è un problema serissimo, è che la Banca Centrale Europea ha deciso di prioritizzare, che è quello di parare gli stati patrimoniali delle banche usando questo metodo. Con un'economia che sta scivolando nella sua quarta recessione dal 2001, il Presidente del Consiglio Mario Monti si aspetta di mettere insieme quasi 450 miliardi di Euro dalla vendita di debito il prossimo anno e deve ripagare circa 53 miliardi di Euro di debito nel primo trimestre, da un debito totale in scadenza di 157 miliardi di Euro secondo i dati della UBS, questo ti riferivi prima. Sì, ci sono varie fonti comunque. In che senso varie fonti? Ci sono varie fonti che hanno fatto queste stime del debito, c'è anche il Ministro Tesoro, insomma, il problema è questo, è che avendo una finestra solo a breve termine per finanziare questo debito, i giochi sono molto, la finestra è molto stretta e penso che non abbiamo una contingenza, io almeno non ne sono al corrente, non penso che ci sia un plan B o un plan C, ecco questo è quello che ti preoccupa. Non sei convinto solo da quello che vedi, dell'organizzazione generale, non ti convincono questi cuochi in cucina. Aspetta, passiamo attraverso… Penso che ci sia troppo aspettativa politica e poco articolazione strategica e manca una figura del calibro, io penso al 79 quando l'Inghilterra era praticamente Braghi di tela e aveva necessità di ricorrere al fondo monetario, manca una figura del calibro di Margaret Thatcher che per tutti i suoi difetti articolò una strategia medio termine macroeconomica e che era monetaria fondamentalmente e una strategia microeconomica per la ristrutturazione veramente del paese, che in Italia ci siano problemi microeconomici da almeno 20 anni non è un segreto, abbiamo un'economia totalmente paralizzata dalla burocrazia, dai regolamenti, dall'inefficienza, dai tempi per fare qualunque cosa, qualunque piccola impresa che ha un'interfaccia con un'amministrazione pubblica, che questa riforma non sia la prima riforma del governo Monti, a me mi preoccupa. Passiamo attraverso l'indice della fiducia del settore manufatturiero, l'indice del cosiddetto mondo degli affari, che cala a 92,5 livello più basso dal dicembre del 2002, da un rivisto 94 di novembre, secondo le comunicazioni dell'Istat, gli economisti interpellati per un sondaggio di stima prevedevano una lettura di 93,7, invece appunto 92,5. La fiducia dei dirigenti d'azienda rispecchia il pessimismo dei consumatori e la fiducia in Italia dei consumatori è cronata a livello più basso negli ultimi 16 anni, a 91,6 a dicembre, appunto il minimo dal 1996, secondo ancora i dati dell'Istat. Anche questa è un'indicazione sulla paura di una recessione nel paese, Fili. Diciamo che il reddito medio di una famiglia italiana per fare fronte a questa emergenza dovrà essere ridotto parecchio e questo è fondamentalmente una delle grandi preoccupazioni che esiste di questa manovra e come si può fare fronte a una riduzione del reddito pro capite italiano allo stesso momento quando abbiamo un'emergenza debito, quando non abbiamo crescita e abbiamo un incremento della richiesta del gettito pubblico della finanza delle tasse che vengono riscosse delle tasche degli italiani, questo è una concatenazione di grossi problemi, perciò il 2012 è veramente la resa dei conti. Qui abbiamo parlato tanto di mille cose che sono tattiche, però la verità è che non c'è una strategia a mio avviso articolata a livello europeo per risolvere questa situazione. Monti a proposito di recessione alla conferenza stampa di fine anno di oggi ha detto che senza la sua manovra il paese sarebbe scoppiato, l'economia italiana era sul punto di scoppiare, facendo capire meglio una recessione prevista e speriamo con le parole del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, mild, comunque moderata, l'ha detto, andiamo incontro verso una recessione moderata, meglio questo che uno scenario di tipo greco è quello che fa pensare Monti. Sì, sì, meglio questo, il problema è che nell'eredità Monti lui fa bene a raccomandare, a dichiarare che la situazione è quella che è, però ora è lui che è in bicicletta e deve pedalare, adesso è inutile dire che tutto questo è un pregresso e per fortuna ci sono io, le soluzioni al momento sono fondamentalmente tutte focalizzate a mio avviso sulla prevenzione di un fallimento catastrofico del sistema bancario europeo, non c'è assolutamente una visione a medio termine in Europa di come stabilizzare macroeconomicamente la situazione della solvibilità dei paesi, e perché non c'è una strategia su cosa fare a livello microeconomico a medio termine. Forse non c'è nulla da fare, allora se non c'è nulla da fare abbiamo veramente poche scelte. Che cosa dovrebbe fare Filippo Europa? Dovrebbe fare quello che ha detto praticamente nel suo discorso iniziale, che fu un bel discorso, disse io assolutamente non metto le mani nelle tasche degli italiani se non dopo aver fatto prima di tutto lo stesso per quanto riguarda i deputati che sono categoria protetta e bisognerebbe assolutamente… Prima di tutto qui c'è un discorso di equità, se io chiedo di fare dei grossi sacrifici a un paese, debbo, e questo purtroppo l'abbiamo visto in Grecia, debbo riuscire a convincere che ci sia un'equità nel tutto e questo ovviamente è stato un discorso molto bello, però nella realtà dopo è stato anacquato completamente e non abbiamo visto nulla, nulla assolutamente per quanto riguarda la scomparsa delle province, per quanto riguarda i mille modi di levare grosse fette di spesa inutile nel paese prima di subito mettere avanti le mani e togliere i soldi alla parte produttiva del paese. Forse c'è stato un rimpallo di comprensione, io parlavo d'Italia, tu mi rispondevi con l'Europa, poi io ti chiedo di Europa e mi rispondi con l'Italia, però benvenuto con questo discorso. Tu dicevi che l'Europa non ha una visione a lungo termine, non sa come gestire la situazione a lungo termine, che cosa dovrebbero fare in Europa? Cosa dovrebbero fare in Europa è a mio avviso prima di tutto smettere di nascondersi dietro il dito delle banche. La Banca Centrale Europea con questo discorso non fa altro che perpetuare l'incertezza per quanto riguarda tutto il sistema finanziario europeo. Credere che estendere 500 miliardi alle banche a 1% sia un modo per ripianare i problemi del debito sovrano è un'assurdità. Il debito sovrano va fatto, ripianato in una strategia vera, che costi quello che costi. o diciamo che costerà nel 2012, a mio avviso, solo la parte del rifinanziamento in Europa intorno sia banche sia sovrani, 1 miliardo e 3. Questo sarebbe il discorso serio. In quest'anno però dovrebbero esserci veramente delle riforme strutturali a livelli dei singoli paesi. Questo è chiaramente facile dirlo, non è una ricetta originale questa. Il discorso è riuscire a convincere i paesi a metterli in atto prima che ci sia un contagio. Ricordiamoci che viviamo in un mondo globale e che ci sono altri paesi che hanno una crisi del debito sovrano nascosta, tra i quali Giappone e Stati Uniti. Perciò è una situazione molto grave e questo forse in Europa non viene ricevuto. La Banca Centrale Europea ha più spazio per tagliare i tassi di interesse fino al minimo storico mentre la crisi del debito attenua le pressioni e inflazioni investite. La BCE dice oggi da Francoforte che il tasso di crescita di M3, la massa monetaria che la Banca Centrale Europea usa come un barometro per la inflazione futura, cala al 2% a novembre dal 2,6% di ottobre. La crescita dei prestiti alle famiglie e alle aziende nelle 17 nazioni dell'area euro rallenta a sua volta e infine anche l'inflazione in Germania, la prima economia europea, decelera a dicembre. Questo fa pensare che Mario Draghi possa essere il primo presidente della Banca Centrale Europea a portare i tassi di interesse al di sotto dell'1% che è stato per adesso il minimo. Questa dovrebbe essere una mossa che la BCE potrebbe fare nei prossimi mesi. Io ho preparato anche un grafico, il grafico dei tassi è così, è sempre molto semplice da vedere, con i tassi all'1% il movimento ha rialzo all'1,25 e poi all'1,50 vato da trisce e poi arriva invece Draghi che riporta all'1,25 e all'1%. Dunque tassi di interesse almeno questa è una previsione della prossima azione della Banca Centrale Europea? Penso che se vado a 0,25% come sono negli Stati Uniti non è che tra 0,25 e 1 ci sia una grandissima differenza, perciò penso che anche se vanno a 0,5% o qualunque cosa se c'è una riduzione e significa che c'è una presa d'atto, che c'è un fortissimo rischio di depressione, non recessione. Il discorso fondamentale è che in Europa non abbiamo dei decision maker capaci di affrontare il problema economico, perché il problema economico dei sovrani è diventato un problema politico e abbiamo troppi cuochi in cucina e non si riesce a prediligere una situazione, di prendere in mano la situazione una volta per tutte invece di spingere sempre a una data futura e la risoluzione che come abbiamo visto è stato fatto in Grecia con degli effetti disastrosi. Una delle cose importanti da articolare, penso politicamente in Europa e specialmente in Germania è il costo di un eventuale sfascio della zona Euro, se il costo per tenerlo unito su un miliardo e tre e due miliardi di Euro, io non ho visto cifre vere di quello che sarebbe il costo di un eventuale sfascio della zona Euro, però se sono molto superiori, penso che lo siano a questa cifra, allora forse ci vorrebbe un po' di coraggio da parte della leadership tedesca per affrontare questo discorso. Come farlo, in che modo è tutto un discorso successivo, però se non si fa il cost benefit di questa analisi, non si comunica questo, penso che che la crisi può solo peggiorare. Billion o trillion? Trillion, scusami, perché sai… Ormai siamo nella stratosfera, non si sa neanche, sono cifre talmente enormi. Sì, appunto dunque, non si riferiva a miliardi, ma a migliaia di miliardi, il famoso in inglese trillion, noi in italiano non ce l'abbiamo, il trilione, sono mille miliardi. Filippo, io ti passerei rapidamente anche una domanda che è arrivata e dice così, tornando al discorso che avete affrontato in merito al ruolo della nuova operazione di finanziamento illimitato che la BCE offrirà alle banche, dice Pierantonio Fabrizio Maria, dice volevo chiedere se qualcuno dei tuoi ospiti può spiegare a chi ascolta, io lo so già essendo laureato in economia, ma forse in molti vogliono capire bene la differenza, ci dice vabbè grazie, in cosa differisce rispetto a quanto fa la Federal Reserve, la banca centrale americana, ed in particolare introdurre il tema delle sterilizzazioni che la BCE deve fare in seguito ai finanziamenti per non stampare moneta. Dice in particolare qualcuno dei tuoi ospiti sa qual è la potenza di fuoco che la BCE ha per la sterilizzazione prima di dover obbligatoriamente stampare come la Fed e quindi creare base monetaria a rischio di indurre un effetto inflazionistico sul lungo termine che i tedeschi non vogliono proprio. Grazie mille per Antonio Maria, Fabrizio Maria. La sterilizzazione in modo più semplice di spiegarlo è quando una banca centrale come la Federal Reserve immette liquidità che si può fare o con il ciclo stile o facendo un'operazione di questo genere nella quale la banca centrale acquista titoli, di solito titoli di Stato dalle banche e allora loro hanno questa liquidità, fai conto che ci sia un'immissione di un miliardo di dollari dalla parte della Fed tramite un acquisto di titoli di Stato dalle banche, questo miliardo è un miliardo nuovo che finisce sullo Stato patrimoniale delle banche che può essere levereggiato, può essere immesso in nuovi prestiti, nuove operazioni finanziarie oppure c'è una controparte per esempio di questo miliardo, 500 milioni possono essere richiesti come un aumento del deposito che le banche hanno con la banca centrale oppure la banca centrale acquista titoli o valuta estera, questo è il discorso, così l'effetto netto è meno del 100 che si mettono, magari l'effetto netto è 60, 50 dipendendo dalla sterilizzazione. La seconda parte della domanda che è la differenza tra la banca europea e la Federal Reserve è fondamentalmente che la banca europea non ha lo stesso mandato della Federal Reserve, che è un duplice mandato sia di difesa del valore della moneta, dollaro, che del mantenimento dell'impiego, la banca centrale europea ha fondamentalmente un mandato che è quello di difendere la valuta europea, la stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi. Quello che è stato fatto recentemente non è stata una sterilizzazione della banca europea, ma un'autosterilizzazione delle banche stesse, perché non hanno fiducia nel sistema bancario. I 500 miliardi hanno ridepositato circa 430 con la banca centrale europea, così netto sono 70 e rotti miliardi. In effetti ecco qua, la differenza sia filosofica sia anche di flessibilità. La banca europea purtroppo da quello che abbiamo visto è una banca molto più legalistica di quella americana e perciò in momenti di crisi ha molta meno latitudine. O forse si sono imposti questo. Adesso bisogna vedere con Mario Draghi come lui affronterà questo problema di fondo. Filippo Corsano da Seattle, Washington. Buona giornata Filippo, grazie mille a voi per averci seguito e arrivederci.